su scuola devi proprio buttarla tocca ma devi dare di forte perché tu hai toccato ma non gli hai dato troppo vicino sei troppo là devi partire quando gli dai davanti deve essere qua tu gli dai che ormai è lì quando ti piccia ti piccia di piatto ti torna indietro devi partire prima loro partono all'ultimo non li vai su più così ma neanche il pelo di però sei su alto se sbagli fai come prima che torna giù e poi non tocchi il davanti arrivi di coppa metti lì giù un invito che cambia ma cambia tutto bravo l'invito proviamo un sassetto che lo metti qui dietro uno di quelli se non vuoi più vuol dire che hai tolto tutta l'aria l'ha ingrassata è più tassarata hai visto quello devi mettere insomma la città è più potente non ce l'ho là questo è piccolino non mai riesci duro? non l'ho mai toccata no no l'ho pulito no quello è troppo grosso quello va bene ma tutte le viti devi togliere ma è qua strano bravo drizzalo prova a stringerla mezzo giro contigini mezzo appena mezzo allora almeno un giro di sotto vado a un giro in giro in mezzo ma questo qua lavora diverso questa qua aprirla di uno mi si chiama più aria prova a metterla a uno vuol dire mezzo era già prima mezzo e uno e uno chiudiamo questa qui è gara giamaicana eh sì brava quando pulisci il carburatore devi togliere tutte le viti eh? tutte fatti un bel giro tutti i getti tutti quelli di smontare ti metti terza e quarta vado fino dalle macchine poi puoi farla anche guarda guarda è partito in quinta poi una regola l'aria l'altra regola adesso se torna che è incendiata perché funziona ma dove quando casi non lo fa quando casi non lo fa quando vuoi il disegno? eh boh non so dov'è non c'è mica la centralina come il montesa eh si attacchi la spinetta come il rame e dov'è che l'attacco il computer? non c'è qua non lo faceva stamattina vuoi che dovrei bruciare la lanetta che vinta che avete detto? il diesel la catena è un po' moda hai fatto casaglio quello invernale è arrivato lo specialista della Liguria no perchè che è una roba da dire magari la lana cagetina ma quale che hai messo? la lana Casimir? o la sua originale che l'avevo a casa la lana Merinos se no fai tipo custom io ormai gli ho cambiato tutto i collettori non è che magari è andata dentro un po' di olio che prima quando l'ho fatta più grande la lascio anche al primo e qua per cambiare casa vedi che è così si ma vedi che non va bene non va bene anche l'aria io lo metto anche questa è lì ma lì è lì qua eh lo so che è quello va bene 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 se vedete che si è scaldata no se ne vedete stamattina non facevo tutto no basta basta basta